CONFRONTIATION il fatto ha deciso che? il fatto ha deciso che non venisse registrato quindi io sai cosa farei? manterrei il 5 a 3 e fare un'altra sfida dove perderò? arriveremo 6 a 3 però si è giusto non è che perché è colpa mia se non ho registrato è colpa mia se non hai registrato quindi però questa volta guanti borchiati capito siccome è colpa mia che non ho registrato è giusto che io mi ma è bene se la teniamo sul 5 a 3 facciamo altri tre pezzi infatti quello dico si ma è senza 6 a 3 andiamo in redactane si no è 5 a 3 ma nel dico tanto il mio polso sta morendo e probabilmente vincerei tu quindi sarà un 6 a 3 cosa vuoi fare? perchè? perchè? e ringrazio che non facciamo Cliffs of Dover nel 3 che era quella che facciamo si me la ricordo Cliffs of Dover si me la ricordo Cliffs of Dover il gruppo è la famiglia di svitati che ti sei scegli vero ah oh Greg Olman non me la ricordo non me la ricordo anche quanto dura sto pezzo? ma 100 solo che sembra infinito perchè si ripete tante volte non mi la ricordo non mi la ricordo non mi la ricordo ecco esatto appena perso assoleggiami ah cazzo dun 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 tuiniu no sono spazzatura io sei trash cazzo cazzo giusto giusto ne dammene ancora un altro di ancora uno però questo ce lo sarò quindi importante quanti ne vuoi ancora Gabbo ma ancora uno migliaio almeno! Tipo 5 meoom pepooom pepooom anche voi da casa! ah ho sbagliato oh! quanto cazzo dura il tuo star power? abbastanza no no dai l'avevo preso prima ah no ragazzi no dai cazzo cazzo si no 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 credevi eh? credevo si cazzo cazzo dai per 8 dai per 8 si però sbagliare così no eh no ancora uno star power dai nooo no no ho gettato la spugna non ce la faccio più troppi errori troppi errori troppi errori michelle no questa è stata proprio combattuta close se mi permetti il termine pronto? vero io non ce l'ho fatta eh vabbè mi sono battuto questa volta che è stata estremamente concentrata è stata molto close quasi closer guarda io ho fatto la serie di note più lunga stesse note suonate ma tu hai gestito meglio lo star power pi 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 ma però? eh nuovo 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 mamma mia pizzeria io direi dovrebbe essere qua cosa? no no cosa volevi fare? non mi ricordo se era no forse era nell'1 fire it up eh puoi venire cioè no non moriamo gabbo no 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 magari dopo prima facciamo qualcosa di un po' più semplice tipo secondo me tipo monkey ranch dei fu fighters poi lo so si va bene se trovi qualcosa che ti attira di più un po' di relax dai e poi va bene facciamo un gare 18 ti ricordi quanti assoli ha alla fine quella? ehm un gare 18 porca troia si ok ognuno c'è porra perte bravo gatto eh adesso ne ho una in meno mi ero distratto no 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 ai vero ah Spazzatura Cazzo Sono meno dimenticato che era così largo No Sì 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 Non è cosa, non è cosa Solo! Vaffanculo! Minha! Non prendo mai i cambi! Quello! Si! Siamo pronti a farci cagare addosso da Dave Mustaine! Che tanto è il suo sport nazionale! Cagarsi addosso? No no, cagare addosso alla gente! Che persona simpi! Che persona a modo! Proprio a modo di Mustaine! Quasi a modius! Comunque siamo già su... Quindi siamo 6 a 3! Siamo 6 a 3! Uh! Tanto adesso... Ho già in mente su che cosa chiuderai il gap! Ma è una, posso chiuderne! No no, due ne ho anche! Due? Sì sì! Ruggito sanguinoso! Ah certo! Lì ti posso aprire il culo, è vero! È vero, è vero! Scemo io che l'ho detto, guarda! Bravo, bravo! Grazie Gabbo, grazie! Però è giusto, è giusto! Cioè... Qui io ho giocato un po' più... Eh ma Guitariro... La storia... Sì ma sei sempre stato più bravo di me! Cioè nel senso... Su alcune canzoni magari me la cavavo meglio! Ciao! 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 Bye, bye! Bye, bye... Oh! Oh! No, non volevo attivarlo Ah, too much Raging, not too much Piscale? Ne abbiamo un po' Eh, poche Sì, sì Dovremmo smetterla di annunciarle Almeno la gente non si fa aspettative Cazzo! Ehi! Ecco, io queste cose qui non le ho mai imparate Maledetto Dave Masturin! Maledetto bastardo Ah! Non lo faccio qui Puffanculo Megadeth di merda a loro E le loro canzoni da 8 minuti Di pura masturbazione chitarristica Cioè, che cos'è sta roba? Perché la fai? Eh, la c'è 7000 punti, eh Niente È perché ho detto Cioè, abbiamo avuto Abbiamo ottenuto per un casino Lo star power Per poi usarlo per due minuti Per due secondi Quelle ultime Sempre uguale Sempre uguale Stesse serie di noti Cioè, no, serie A sto giro l'hai fatta molto più lunga tu Molto 12 noti Ah, solo Non compiando Cioè, non compatirmi Ok, fai schifo Ma fa colo Se faccio schifo io Anche tu fai abbastanza schifo Eh, come Avrei fatto molto di meglio Ai tempi d'oro Ai tempi d'oro Avremmo fatto entrambi Molto di meglio No, no Sì, sì, anch'io Ma infatti se Continuo Se facciamo Esci Giusto per Per la bandiera Se andiamo in carriera Dovrebbero esserci I miei risultati E a parte alcune Dovrebbero essere Tutte a buon livello Gli Sboody Holes Che era un gruppo Delle mie party Infatti tipo Sicuro finita Un certo live Look out A parte vabbè Le prime che sti cazzi 5, 5, 5 Tattoo Non boys perché era terribile Sì 5, 5, 5, 5 Freya 3 Eh, questo è Bad reputation Tanti cose questi Jessica 5 Jessica 5 Letture 4 Y, Y, Z Tutte Ah, guarda 18, 4 stelle Cioè, me l'ero cavata bene Poi Artillery Black A5 Mi piaceva da pazzi E Anche nell'1 Tanta roba Vabbè Ragazzi 6 e 3 Devo riprendere Devo recuperare Questo gabbo Che sta cercando Di decollare Sì, sì Sto cercando Di prendere il volo Di scappare Di non farmi raggiungere mai più Ma non te lo Oddio Ma non te lo permetterò Spudio Che era un gruppo Delle mie party Ciao a tutti È stato molto bello Ciao Oh no Non è riuscito a fare La tua mia Ciao a tutti Ciao a tutti